Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Il cinema, come sappiamo, è considerata la settima arte. La settima dopo la poesia, la danza, l'architettura, eccetera eccetera. Poi arrivò la fotografia e poi... e poi c'è il fumetto o come diremmo oggi la graphic novel, ma chiamiamolo fumetto. Ha ragione il fumetto è considerato un'arte perché Persepolis, per esempio, di Marjan Satrapi, è un piccolo capolavoro letterario. Il primo fumetto scritto e illustrato da una giovane iraniana, appunto Marjan Satrapi, che ci racconta la sua vita. È stato un caso letterario alla sua uscita nel 2000, tanto che qualche anno dopo ne è stato tratto un film che ha ricevuto il Gran Premio della giuria di Cannes nel 2007. Marjan quindi ci racconta la sua storia, la storia di una bambina di nove anni che alla fine degli anni settanta si trova a vivere una rivoluzione, una vera e propria rivoluzione. L'Iran passa dalla padella alla braccia, possiamo dire, dal regime degli Shah a quello degli Ayatollah e quindi la rivoluzione islamica. Questa sono io quando avevo dieci anni, era il 1980 e questa è una foto di classe. Io sono seduto all'estrema sinistra, perciò non mi si vede. Nel 1979 c'è stata una rivoluzione che poi hanno chiamato la rivoluzione islamica, poi venne il 1980, il primo anno in cui nelle scuole il foulard diventò obbligatorio. Ma a noi non piaceva molto portare il foulard, soprattutto perché non ne capivamo il motivo. Fa troppo caldo, sono il mostro delle tenebre, ridami il mio foulard. Marjan è una bambina figlia di due borghesi, professionisti, una famiglia colta, una famiglia progressista che per la propria figlia, per Marjan, intende appunto impartire una educazione libera, laica, progressista, come dicevo. Per cui Marjan è una bambina senza peli sulla lingua, ha difficoltà a integrarsi nella nuova scuola, nel nuovo sistema islamico. Dopo la mia espulsione ci volle la mano di Dio per trovare un'altra scuola disposta ad accettarmi. Era stato un vero crimine colpire una direttrice, ma grazie a mia zia che conosceva degli altri funzionari nel mondo dell'istruzione mi scrissero in un altro liceo e là, da quando è stata instaurata la Repubblica Islamica, non ci sono più prigionieri politici. Professoressa, mio zio è stato in prigione sotto lo Shah, ma il regime islamico l'ha giustiziato. Dite che non ci sono più prigionieri politici e invece dai 3.000 detenuti dell'epoca dello Shah, sotto il vostro regime sono diventati 300.000. Come osate mentirci in questo modo? Ecco, avete già capito che difficoltà avrà la piccola Marjan a sopravvivere in questo mondo, tanto che i suoi decidono di mandarla in Austria per un primo periodo e poi e poi e poi e poi e poi. lascio a voi il piacere di leggere questa bellissima storia e di condividerla con i vostri alunni che potranno aprire una nuova finestra sulla storia recente in Medio Oriente. E allora grazie per la vostra attenzione, ci vediamo la prossima volta e mi raccomando non mancate di venirci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social. Grazie a tutti.